nel video cesare e la spedizione in britannia compaiono alcune forme dei pronomi e degli aggettivi indefiniti negativi che significano cioè nessuno niente il primo è nemo che significa nessuno nemo ex mercatoribus afferma cesare nessuno dei mercanti dicere poterat era in grado di dire quanta asset insule magnitudo quanto fosse grande l'isola nemo qui usato al nominativo singolare svolge per lo più la funzione di pronome e si riferisce a una persona il secondo è nil nulla che ha sempre funzione di sostantivo neutro come in questa scena tratta dal video cesare e la spedizione in britannia mercatores i mercanti nil sciebant non sapevano nulla deportibus sui porti vediamo la declinazione di nemo maschile e femminile e nil neutro al nominativo singolare maschile e femminile abbiamo la forma nemo nessuno nessuna al neutro mil nessuna cosa nulla al genitivo nullius di nessuno di nessuna al genitivo neutro nullius rei di nessuna cosa al dativo nemini a nessuno a nessuna al dativo neutro nulli rei a nessuna cosa l'accusativo è neminem nessuno nessuna l'accusativo neutro e nil nessuna cosa nulla l'ablativo nullo con nessuno con nessuna a causa di nessuna al neutro nulla rei a causa di nessuna cosa a causa di nulla